Il Comune di Quarto è divenuto protagonista del fitness internazionale per il secondo anno consecutivo con l'evento Fitness Park. La Kermess, organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica FKey e dalla struttura ospitante Anfra Sports Club, si è svolta su 8.000 metri quadri tra l'esposizione delle aziende coinvolte nel settore, eventi ed attività sportive, intervenuti gli organizzatori Sergio Gallotta e Marianna Perruno. Tanti marchi, tanti brand nazionali e internazionali presenti in questa manifestazione, che nasce quasi come uno scherzo, un gioco, e lo abbiamo accettato, abbiamo accettato questa sfida, noi in collaborazione anche con l'Anfra, la struttura ospitante, e in due giorni è nato questo evento. Fieri di questo progetto, che anche quest'anno è andato alla grande, rappresentando uno degli eventi più importanti del sud Italia e avendo più di 600 presenze. Siamo fieri di ospitare i più grandi marchi del fitness nazionale e internazionali, abbiamo Super Jump con Gil Cooper, abbiamo l'Accademia di Coreografia Step Aerobica con Gil Lopez. Tra gli ospiti, il presenters di livello internazionale Gil Lopez, che ha spiegato le attività svolte. Come sempre è un piacere tornare uguale alla bella Napoli, mamma mia, in questo evento, la mia seconda volta all'Anfra, una palestra bellissima, una struttura meravigliosa, che ospita questo evento fitness parchi stupendo. Io farò le lezioni di step e di aerobica, con la squadra della GLP Academy, con Tony Ruocco, Tony Rapilo, una lezione di step dove lavoreremo i cardiovascolari, cioè la coordinazione.